ciao ragazzi di mio canale grazie per voi 30 che vi siete iscritti grazie per spessaggiare l'ho visto oggi da te ne ho scritto e ho subito un video 10 pacchetti di Adorena li piaceggiare 10 andiamo con il primo pacchetto troviamo questa qua dal parma poi idolo zacchie biglia questo qui si fa un pacchetto ragazzi quando dovrò orsen toloi jiko stink questo qua vediamo con il terzo pacchetto ragazzi terzo pacchetto che mi sembra che la strada spedraft ben andeschi no no la vera raga ma sopra forse tornato oggi ciao cr7 ne ho 5 4 doppione e uno sull'album che ok coppia coppia i battipedal dal genova idolo idolo ciao il prossimo pacchetto ragazzi stupendo della Lazio Miranda Miranda mi serve dall'Inter e la padova ragazzi inoscompartibile copie mettere da Bologna sesto pacchetto sesto pacchetto troviamo la coppia attiva dalla Roma idolo da solo mazzucchiccio 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 mi serve due dell'Inter due dell'Inter a me il set l'ho fatto pacchetto super draft chisa stella difensore Nostro l'idea De Vraima Cero Fazio E il Prince Boateng Il nuovo pacchetto Il nuovo pacchetto